Grazie e buonasera a tutti. Allora, prima di entrare nel merito del mio intervento, appunto dal titolo accompagnare i genitori nel processo educativo, vorrei fare una breve premessa per introdurre il modello di cancelling con i genitori utilizzato dall'Istituto di Ortofonologia. E' bene ricordare, infatti, che il servizio di cancelling per i genitori è operativo fin dalla fondazione dell'Istituto e quindi accompagna da sempre l'intervento sul bambino. Tale modello, quindi, si è andato delineando nel corso degli anni, arricchendosi e perfezionandosi sulla base di un'esperienza che in quasi 50 anni ha lavorato con più di 25.000 genitori. Io, ovviamente, me ne occupo da molto meno tempo, ma sono quasi 13 anni che mi occupo di cancelling con i genitori. Vorrei ora leggervi alcune riflessioni che ruotano proprio intorno a questo lavoro con i genitori. Il cancelling con i genitori è un intervento di tipo psicodinamico che si affianca e si svolge in parallelo al trattamento del bambino o dell'adolescente. Può essere uno spazio individuale, cioè rivolto alla singola coppia genitoriale, alla madre o al padre, oppure può essere uno spazio di gruppo, cioè dove i genitori lavorano insieme ad altre coppie genitoriali. La frequenza degli incontri è in genere quindicinale e si tratta sempre di un breve ciclo di incontri che però può essere ripetuto nel corso dell'anno per monitorarne l'andamento. La cosa importante da dire è che la presa in carico di ogni bambino è sempre accompagnata da uno spazio di supporto e di sostegno per i suoi genitori. L'obiettivo generale del cancelling con i genitori è quello di aiutarli ad investire in modo adeguato i loro sforzi e le loro risorse nel percorso terapeutico del figlio, così che questa sinergia possa garantire nel tempo il successo del trattamento stesso. A volte, lavorare prima con i genitori su tale obiettivo è addirittura la premessa per l'inizio del trattamento del bambino. Nei casi gravi, infatti, è spesso necessario incominciare prima a lavorare con i genitori ed eventualmente solo dopo far iniziare la terapia al bambino, altrimenti non ci sono i presupposti per la presa in carico e la terapia stessa può rappresentare un'ulteriore fonte di disagio e di conflitto per la famiglia. Un altro obiettivo del cancelling è quello di aiutare la madre e il padre a riconoscere e ad elaborare i nodi complessuali che creano disagio nella relazione con il figlio. I genitori, inoltre, vengono aiutati a prendere contatto con il figlio reale in modo da comprendere ed accogliere i suoi bisogni evolutivi e rispondervi poi in modo adeguato. Il focus dell'intervento è sempre la relazione tra genitori e figli per aumentare le competenze educative dei genitori, attivando o riattivando in loro una genitorialità positiva. Tale obiettivo va chiarito ai genitori fin da primo incontro per scongiurare il pericolo di manipolazioni o intrusioni varie, per esempio da parte dei nonni, dei babysitter o dei nuovi compagni in caso di genitori separati. Anche il terapeuta deve sempre tenere a mente la centralità e la mutua complessità della relazione genitore-figlio e deve sapere dove e quando fermarsi per evitare un senso di onnipotenza, trasformando spesso il cancelling in una vera e propria terapia personale o di coppia. Il cancelling quindi è uno spazio psicodinamico che racchiude in sé varie funzioni. È uno spazio di sostegno e contenimento dove il genitore deposita prima ed elabora dopo una complessa costellazione di vissuti, dubbi, conflitti, difese, fantasie ed aspettative. In questo spazio il genitore può esprimere fino in fondo le sue richieste di aiuto e può sentirsi contenuto nel suo senso di vergogna e nei profondi vissuti di inadeguatezza che spesso lo fanno sentire responsabile del sintomo del figlio. È uno spazio dove il genitore si sente accolto nella sua ferita narcisistica legata al fatto di avere un figlio che ha bisogno di aiuto. È uno spazio d'incontro dove il genitore proietta sul terapeuta un ideale di competenza e conoscenza e attraverso la relazione con lui può apprendere nuovi stili comunicativi e può sperimentare modalità relazionali più adeguate e gratificanti. Il terapeuta in altri termini rappresenta una sorta di io ausiliario del genitore. In uno spazio così definito quindi, oltre al disagio e alla frustrazione, si può sperimentare anche il cambiamento. Oltre alla consapevolezza dei propri limiti e fragilità, ci si sente anche rinforzati nelle capacità personali e della coppia genitoriale. In virtù di tutti questi aspetti, lo spazio del cancelling rappresenta quello che Winnicott definisce uno spazio potenziale, uno spazio cioè dove la genitorialità si pone come area intermedia tra il genitore e il figlio. Tutto ciò è raggiungibile solo a patto che nel cancelling si crea un particolare spazio mentale, affettivo e relazionale, ponendo particolare attenzione all'alleanza terapeutica. Il counselor in realtà, oltre a creare l'alleanza terapeutica con i genitori, deve stabilire anche una sorta di alleanza interna con il bambino o l'adolescente o con il suo terapeuta, creando un dialogo continuo con tutti gli operatori coinvolti. Solo così sarà possibile la ricomposizione delle varie esperienze in un quadro coerente e potenzialmente positivo per tutti gli interlocutori coinvolti. L'elemento fondamentale che caratterizza il modello di cancelling con i genitori seguiti dall'Istituto di Ortofonologia è che si tratta di un cancelling psicodinamico. Ciò significa che l'intervento è definito dalla singola specificità del genitore. L'abbiamo detto più volte da stamattina, per noi ogni bambino è unico e anche ogni genitore è unico. Non si tratta quindi di dare semplici e generici consigli ed indicazioni validi per tutti, quanto piuttosto aiutare il genitore a comprendere meglio i reali bisogni del bambino e orientarlo verso soluzioni efficaci. In altre parole, le varie indicazioni sono sempre connesse a quello specifico paziente e alla sua storia. È necessario inoltre che il terapeuta sappia sempre cogliere quei continui cambiamenti dello scenario culturale che condizionano direttamente la genitorialità. Il ruolo genitoriale è infatti estremamente permeabile all'insieme di valori e stili di vita che dominano la cultura dell'epoca in cui si vive. Ciò è particolarmente evidente, per esempio, rispetto alla funzione normativa e regolativa dei genitori, ma a livello ancora più profondo influisce sulla creazione dell'immagine interna del bambino. Cogliere quindi questi cambiamenti nello scenario culturale è molto importante, altrimenti si corre il rischio di vedere e di interpretare tutto come patologico o al contrario giustificare tutto come caratteriale. Solo la conoscenza approfondita e globale di quel bambino specifico, dei suoi genitori e della storia della loro dinamica relazionale ci permette di essere efficaci ed incisivi nelle indicazioni proposte. Il cancelling psicodinamico, inoltre, cerca di creare quella dimensione a misura di bambino che sa riconoscere la gradualità del processo evolutivo e sa prevedere un adeguato accompagnamento emotivo al genitore e al bambino sostenendoli nelle varie tappe dello sviluppo. Vorrei ora soffermarmi ed approfondire alcuni aspetti che riguardano nello specifico il lavoro di cancelling con i genitori dei bambini nella fascia di età 0-6 anni. Primo passo da cui partire è sempre quello di aiutare il genitore ad elaborare la nuova immagine del figlio restituita dopo la valutazione fatta. Il terapeuta sostiene ed accompagna il genitore in questa elaborazione emotiva della diagnosi sapendo, come già detto prima, che ogni genitore è unico e che i suoi tempi e i suoi modelli interni influiscono su questo processo di elaborazione. Il genitore, allo stesso tempo, va aiutato a comprendere il livello di sviluppo del bambino e quali sono i suoi reali bisogni, ridefinendo in modo adeguato le proprie aspettative. Ciò gli permetterà di fornire al bambino le strategie che lo aiutino da una parte a regolare i propri stati interni e a dare un senso all'esperienza e dall'altra ad organizzare risposte adeguate e a modulare il proprio comportamento. Tale funzione regolativa del genitore, invece, è spesso del tutto assente oppure inappropriata o fortemente intrusiva, non lasciando al bambino il tempo di riconoscere e segnalare i suoi bisogni o stati emotivi. In questi casi, il genitore non percepisce in modo realistico lo stadio evolutivo e allo stesso tempo non riesce ad intuire quei comportamenti che ne promuovono lo sviluppo, modificando di conseguenza anche le proprie modalità relazionali. Quando nel cancelling ci troviamo a riflettere su queste contraddizioni e difficoltà, il genitore sembra spesso sorpreso e confuso e in modo disarmante mi chiede quali cose il suo bambino dovrebbe saper fare a quell'età, quali competenze dovrebbe aver sviluppato e quali sono le richieste adatte da fargli, ignorando completamente le specifiche tappe evolutive del bambino e i suoi bisogni. Questo è un aspetto molto importante su cui lavorare, visto che vari studi hanno confermato che le risposte dei genitori ai segnali e ai bisogni del bambino hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo della sua capacità di autoregolazione. Al contrario, una relazione di adica problematica può generare problemi nell'attaccamento e nei vari processi evolutivi, creando a sua volta i presupposti per lo sviluppo di vari comportamenti problematici nel bambino. Una difficoltà, infatti, nella funzione di regolazione del genitore può favorire uno sviluppo disarmonico nel bambino. Proviamo a vedere alcune di queste situazioni soffermandoci in modo particolare su tre grandi aree problematiche, quella dell'autonomia, quella dell'alimentazione e poi limiti e regole. I genitori di oggi, spesso influenzati da modelli socioculturali tanto perfetti quanto irraggiungibili, tendono ad avere un atteggiamento fortemente richiestivo verso il bambino ed orientato quasi esclusivamente sulla prestazione. In totale contrapposizione a ciò, invece, c'è un vuoto e un disinvestimento totale da parte loro rispetto a tutte quelle richieste che aiutano il bambino a crescere, con una significativa compromissione, soprattutto nell'area dell'autonomia. È sempre più frequente, infatti, vedere genitori che focalizzano tutta la loro attenzione sui risultati scolastici del figlio, magari scrivendolo in prima elementare, nonostante non sia ancora pronto e maturo per tale passaggio, ma allo stesso tempo vivono come normale il fatto che il proprio figlio, a 6-7 anni, abbia ancora bisogno di mettere il pannolino di notte o che mangi solo se è imboccato dalla madre, oppure che abbia sempre bisogno della vicinanza di un genitore per addormentarsi. Tutto ciò confonde e crea disagio nel bambino, che sarà disorientato dal dover essere contemporaneamente piccolo per alcuni aspetti e grande per altri, e sarà difficile per lui poter essere se stesso laddove è sommerso, se non addirittura schiacciato, dagli aspettative irraggiungibili dei genitori. L'atteggiamento, infatti, focalizzato solo sul risultato e la prestazione, fa perdere proprio quella dimensione a misura di bambino di cui parlavamo prima, creando spesso un marcato disagio. In questi casi, nel cancelling, accompagneremo il genitore affinché possa imparare a riconoscere il figlio come persona, con sensazioni e risorse proprie, e possa recuperare quella dimensione di genitore sufficientemente buono che, come afferma Winnicott, sa tarare il suo livello di richiesta sullo specifico livello di sviluppo del bambino, permettendogli così di passare da una dipendenza assoluta a una dipendenza relativa. Il concetto di zona di sviluppo prossimale, tra l'altro, ci ricorda proprio che il bambino riesce a fare piccoli passi in avanti solo se è aiutato, sostenuto e accompagnato dal genitore. Un'altra area spesso particolarmente problematica nella fascia d'età 0-6 anni e legata a difficoltà della funzione regolativa dei genitori è quella dell'alimentazione. Non a caso, abbiamo visto anche prima, stanno aumentando in modo significativo problemi di deglutizione atipica e disordini alimentari di varia natura. Oggi, per esempio, circa il 15-20% delle mamme dei bambini dietro tra i 2 e i 5 anni riferiscono che i loro bambini sono particolarmente selettivi e restrittivi verso il cibo. Sono altrettanti numerosi anche i bambini che manifestano una disordinata e insistente richiesta di cibo oppure bambini che protraggono in modo anomalo la fase dello svezzamento continuando a mangiare addirittura anche verso i 6-7 anni solo cibi frullati inibendo quasi completamente la capacità di masticare. Il dato clinico significativo è che in questi casi ci troviamo di fronte ad un'alta percentuale di mamme che vivono con altrettanta ansia il momento dei pasti manifestando un'irrazionale paura che il figlio possa soffocare mentre mangia. Ovviamente il bambino non riuscirà a vivere un'adeguata autonomia a 3-4 anni se non è riuscito prima a trovare un'autonomia nell'area dell'alimentazione e di conseguenza vedrà spesso compromessa anche l'area del linguaggio. In questi casi, prima ancora di lavorare sugli aspetti tecnici è necessario lavorare sugli aspetti psichici e sulla dinamica madre-bambino. Il bambino, infatti, spesso è pronto per affrontare questa tappa evolutiva ma non lo è la madre che prima deve essere aiutata a gestire le sue ansie e ad elaborare la sua paura del soffocamento. Se prima non ci occupiamo di quest'aspetto nel cancelling con i genitori spesso i vari esercizi articolatori proposti al bambino non determinano un reale significativo miglioramento. In questi casi, accompagnare il genitore in modo particolare la madre significa aiutarla ad uscire da una modalità simbiotica con il figlio e a tollerarne la separazione e la crescita non usando più il cibo come ricatto o punizione e né tantomeno come sostituto affettivo o come gioco di potere tra lei e il figlio. Un'altra difficoltà molto diffusa nel genitore di oggi riguarda la sua funzione normativa cioè la capacità dell'adulto di dare limiti e regole al bambino di aiutarlo a vivere dentro una struttura di riferimento coerente e prevedibile che gli permetta di mettere ordine e dare un senso alla caoticità della sua esperienza. Sicuramente, come affermano Braselton e Greenspan, anche la capacità dei genitori di mettere dei limiti è legata alle loro aspettative e alla consapevolezza dei compiti evolutivi di quella determinata età. Il genitore, nel cancelling, sembra spesso spaventato dalle reazioni esagerate del figlio o sembra preoccupato dall'impatto che le regole possono avere sulla sua personalità non riuscendo a comprendere la funzione profonda e strutturante che ha per il bambino il confronto con il limite e con un adulto in grado di contenerlo. Accompagneremo quindi il genitore affinché faccia vivere al figlio l'esperienza del limite e lo aiuti a superare la sua visione egocentrica del mondo per accedere ad un significato più condivisibile con gli altri. Solo così, genitore e figlio potranno incontrarsi in modo davvero autentico e potranno vivere ognuno il suo ruolo specifico. Il genitore potrà fare il genitore e il bambino potrà fare finalmente il bambino. Per concludere, vorrei ricordare che per accompagnare in modo autentico ed efficace i genitori nel processo educativo è necessario che il terapeuta oltre a rispettarne i tempi e i modelli operativi tenga sempre in mente il delicato e faticoso compito dell'essere genitore non cadendo in eccessive semplificazioni o in inutili colpevolizzazioni ma al contrario considerando che il genitore cerca di fare sempre il massimo al meglio delle sue possibilità. Solo avendo tali assetto mentale ed emotivo nel cancelling riusciremo a sostenere il genitore affinché possa essere una guida sicura e coerente che accompagni il bambino nel suo percorso evolutivo riconoscendogli la fatica di crescere ma trasmettendogli anche il piacere di diventare grande. Grazie. Grazie.